aggiornamento su una delle notizie più attese in casa inter perché è arrivata nell'escursione l'approvazione del bilancio che si è chiuso al 30 giugno 2023 abbiamo avuto modo di visionarlo con la redazione di passione inter prima che diventi pubblico e all'interno di questi documenti abbiamo letto delle notizie sicuramente molto interessanti che voglio riassumervi dunque portando qui in maniera semplice e senza troppi tecnicismi quelli che secondo me secondo noi sono i dati più interessanti che abbiamo raccolto e quindi soprattutto cercare di tracciare un quadro sulla direzione che sta portando avanti l'inter in che direzione ecco sta andando l'inter vi do allora il ben ritrovato e ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale subito così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti qui sui nostri canali ripeto che questa è una sintesi delle notizie che secondo me sono più interessanti per i tifosi da estrarre appunto da decine e decine di pagine molto tecniche che compongono questo bilancio un approfondimento più verticale con tutti i dati e tutte le sfaccettature del bilancio lo andremo a fare all'interno del nostro club di passione inter su www.passioneinter.club se volete entrarne a far parte anche voi ovviamente vi aspettiamo lì velocemente i risultati generali di questo bilancio li abbiamo già commentati più volte si è chiuso con una perdita di 85 milioni di euro che rimane una perdita sicuramente importante ma in netto calo rispetto agli anni precedenti questo perché sicuramente grazie al cammino che è stato fatto in Champions League e nonostante il danno dello sponsor Digital Beats con cui è in corso una causa da un lato ci sono stati dei ricavi operativi da record cioè ricavi strutturali chiamiamoli così del club tra stadio diritti tv commerciali sponsor eccetera senza contare le plusvalenze che tra l'altro sono calate di molto rispetto ai 109 milioni dell'anno precedente si è scesi a 28 milioni di plusvalenze per generare questo questo grande risultato in termini di ricavi dall'altro lato i costi di questi inter rimangono sicuramente piuttosto alti con la rosa che è rimasta di fatto la seconda rosa più costosa in Italia dopo la Juventus ma comunque costi che vanno in calo in una direzione quindi positiva che bisognerà continuare a portare avanti è stato fatto un lavoro molto importante soprattutto sul peso dei cartellini a bilancio quindi dei singoli calciatori un modo anche per avere degli ammortamenti quindi meno pesanti nel corso degli anni e liberare della cassa di cui quest'inter ha bisogno considerando che come dicevo non sono state fatte 109 milioni di plusvalenze col mercato come invece era stato fatto nel bilancio precedente il risultato ottenuto comunque va sottolineato come un grande lavoro da parte di tutte le componenti della società sicuramente ancora migliorabile si può fare ancora meglio ma è stato fatto davvero tanto lavoro rimanendo poi sul tema dei costi prima di entrare poi anche in altre curiosità smontiamo anche subito una fake news che gira che tanti portano avanti da tempo ovvero quella dei 50 milioni di interessi che l'inter paga ogni anno sui debiti a causa di questa proprietà e che quindi ogni anno questi interessi ci costano un top player da vendere in realtà 50 milioni è stato un dato straordinario dell'ultimo bilancio di quello precedente già in questo bilancio l'importo è sceso a circa 39 milioni di cui circa sono verso la proprietà per i prestiti fatti all'inter ma la gran parte poi sono relativi soprattutto al bond in scadenza nel 2027 e che molto probabilmente ci porteremo avanti per molto tempo anche eventualmente con un'altra proprietà. Andando avanti però nella lettura del bilancio troviamo una serie di curiosità che abbiamo raccontato anche sul nostro sito passion inter.com e vi invito a fare un salto però vi elenco velocemente quelle più interessanti intanto di turam probabilmente l'avrete già letto è vero che è arrivato a parametro zero ma con una commissione per gli agenti piuttosto alta da 8 milioni di euro poi leggendo sempre il bilancio emerge più o meno lo sapevamo già ma viene confermato che i giocatori che in questo momento hanno a bilancio il costo più alto in termini di ammortamento sono barella e subito dopo correa e se su barella magari si potranno intraprendere presto anche dei discorsi di rinnovo anche per cercare di abbassare questa quota su correa diciamo che per l'inter sarà sicuramente molto importante privarsi di correa che però da quello che si legge a bilancio è passato al marsiglia con la formula del prestito e per far scattare l'obbligo di riscatto serve la qualificazione diretta alla champions league del marsiglia cioè deve arrivare il marsiglia tra le prime tre della ligana del campionato francese e ad oggi sono abbastanza distanti quindi il rischio di ritrovarsi correa di nuovo in rosa a bloccare delle risorse importanti a bilancio c'è e va tenuto d'occhio sugli sponsor attenzione ad una curiosità con cui poi ci proiettiamo anche agli scenari del prossimo futuro con nike è stato firmato un nuovo accordo fino al 2031 con una cifra di base attorno ai 21,5 milioni di euro da quello che si legge in questo bilancio una cifra che ha fatto discutere perché è ritenuta troppo bassa e distante dalle concorrenti soprattutto a livello europeo e quindi in un primo momento tutti siamo rimasti un po' così attenzione però a due fattori il primo la presenza di un bonus interessante che riguarda di fatto un nuovo stadio per l'inter quindi c'è un bonus legato a nike che scatta al via libera per il progetto per il nuovo stadio e poi una seconda tranche di questo bonus 500 mila euro 500 mila euro scatta alla prima partita nel nuovo stadio questo secondo me anche a testimoniare di come si stia facendo sul serio adesso per il progetto stadio poi soprattutto l'inter specifica ancora una volta nel bilancio come dal 2019 la società si è tenuta semplifico in questo modo diciamo gli incassi dalle vendite delle magliette eccetera eccetera questo significa quindi che se l'inter sarà brava nelle strategie di marketing a vendere di più merchandising e materiale potrà incassare delle cifre molto importanti su cui poter lavorare e continuare a crescere già l'anno scorso in cui come abbiamo visto nei dati di questo bilancio grazie un po all'entusiasmo della champions league soprattutto ma anche alla nuova piattaforma al nuovo e commerce che è stato messo in piedi e che funziona decisamente meglio ecco sono arrivati una decina di milioni di euro in più da questa voce qua cioè dalla vendita appunto del materiale delle magliette eccetera quindi come cifra di base l'accordo con nike è inferiore alle aspettative quindi magari si poteva fare anche un po meglio probabilmente ma l'inter ha dei margini per poter fare un bel lavoro e incassare magari anche di più anche cifre comunque importanti nel giro delle prossime stagioni quindi l'accordo con nike in crescita già sulla base ma non solo rispetto all'accordo precedente c'è paramount plus come main sponsor per questa stagione che ci aspettiamo chiaramente che a differenza di digital beats pagherà per tutti gli accordi presi il nuovo accordo con upower che è un buon accordo l'arrivo anche imminente di catar airways con cui magari intavolare dei discorsi anche per il prossimo futuro diciamo che il lato sponsor c'è una crescita sicuramente interessante poi con brosovic e donana sono state già piazzate delle plus valenze importanti da cui andrà tolta una minus valenza di 6,8 milioni di euro di go sense come leggiamo dal bilancio che però ecco nel complesso ci permette di partire in questa stagione in questo bilancio in corso già con le spalle più coperte a livello economico quindi questo fa pensare proiettandoci al prossimo futuro ad una stagione che con risultati sportivi normali cioè passaggio degli ottavi di finale di champions che sembra ad un passo e soprattutto qualificazione alla prossima champions league ci si possa riportare già quest'anno verso un equilibrio che può permettere poi di pensare anche a prospettive più rose per il prossimo bilancio quello 24 25 perché l'inter contestualmente anche ad un passo dal nuovo mondiale per club lo abbiamo raccontato più volte che una trentina di milioni di euro almeno li vale più tutti gli effetti collaterali positivi che ci sono con la partecipazione a questo evento eccetera più la nuova champions league sarà ancora più ricca a partire dalla prossima stagione quindi già questo significa aumentare ancora la base dei ricavi strutturali su cui poter lavorare parallelamente l'opera di abbassamento dei costi dovrà comunque proseguire perché ancora oggi sono abbastanza alti ma la società sta tornando a viaggiare in una buona direzione incoraggiante fondamentale ovviamente per una società di calcio che oggi deve diventare un'azienda a tutti gli effetti chiaramente con delle problematiche che vanno ancora tenute d'occhio assolutamente personalmente l'orizzonte del duemila ventisette tra il bond che andrà rifinanziato le perdite che sono state diciamo spostate grazie a dei decreti legati al covid e andranno ripianate comunque 342 milioni di euro nel duemila ventisette non sono delle cose banali delle situazioni banali prima però c'è soprattutto il famoso prestito di octree che scade a maggio che è un tema di cui si discute da tanto tempo di cui abbiamo parlato più volte zang dovrà ripianare il debito ripagare totalmente il debito tentare eventualmente di rifinanziare anche se non è una strada semplicissima oppure perde l'inter di fatto che passa ad octree che poi se non ha già un acquirente in mano dovrà trovare un altro acquirente visto che non sembra intenzionato a gestire l'inter quello del duemila ventiquattro è sicuramente il primo passaggio fondamentale per il futuro dell'inter una deadline che si sta avvicinando sempre di più filtra sempre a livello di notizie questo tentativo da parte di zang di rifinanziare questo prestito diciamo che a sensazione comunque stando alle notizie che ci sono in questo momento e alle operazioni anche di pulizia del bilancio che si leggono nettamente dentro i documenti che sono emersi appunto in questo momento è lecito pensare che possano esserci in atto delle manovre per puntare ad incassare il più possibile da una cessione dell'inter in nei prossimi mesi per questo anche tanta fretta magari sul tema stadio potrebbe essere diciamo interpretata in questa direzione ma non soltanto di sicuro però mi viene da dire che al momento la reale e concreta volontà della proprietà la conoscono solo loro solo i proprietari dell'inter e da fuori si possono fare delle ipotesi sugli indizi che stanno emergendo anche da questo bilancio io mi fermo qui ricordandovi che su passion inter punto club faremo un appuntamento dedicato in maniera molto approfondita a questo tema quindi vi aspetto su passion inter punto club vi invito a valutare la possibilità di abbonarvi al nostro progetto per sostenere i nostri contenuti quello che facciamo ogni giorno per avere accesso ad una serie di vantaggi esclusivi come appunto dal primo novembre la possibilità di recuperare l'archivio di tutte le nostre dirette che sarà dedicato esclusivamente ai nostri abbonati e fate un salto valutate anche su passion inter punto club per chi ci sta ascoltando in podcast poi vi lascio in descrizione un altro approfondimento su questo tema che non dovete perdervi lo trovate in descrizione per chi ci segue da youtube vi basta cliccare qui